voi pensate che c'è bisogno di parlare onestamente marco c'è bisogno di parlare dopo quello che abbiamo visto oggi io dico che il silenzio è la migliore parola dopo quest'altra vergogna unica e sola wrestling bravo marco colpo da wrestling proprio alla grande e cosa fa il barri fa come all'inizio le tre scimmiette e gli hanno cambiato l'arbitro ecco perché ora capiamo il perché vi hanno cambiato perfino l'arbitro perché forse qualcuno non si fidava dell'arbitro che c'era prima che quando so quest'arbitro che c'era prima non gli aveva fatto vincere una partita precedente ma è la marotta league non è più l'altra io comunque dico una cosa credere in questo calcio oggi è impossibile noi domani abbiamo l'arbitro di pompei di pompei giochiamo a salerno giochiamo a salerno c'è proprio bello se questo calcio lo potete ancora seguire onestamente non so perché avete voglia che voglia che passione avete ma vi rendete conto che stanno portando tutto alla stella di cartone con una vergogna e cartone c'è proprio io non lo so dateli la stella da petizione fai una petizione dateli la stella di cartone cioè non si può noi vi facciamo vedere questi vi stiamo facendo passare queste queste immagini così per capire della vergogna che ancora continua in questa serie a ma come se nessuno marco vuole capire nessuno interessa nessuno interessa nessuno interessa che forse la stella di cartone talmente così grande da far apparire questa squadra la terza squadra di milano che prende la seconda stella io una seconda stella così non la prenderei proprio con queste vergogne arbitrali o sbaglio marco meglio niente meglio meglio niente e allora dopo meglio niente amici bianconeri e anche amici che non volete questo champions condividete questo video così fate vedere a tutti che il silenzio è la parola migliore che non si dice fino alla fine forza juventus e abbassa il bar abbassa abbassa il barri anno nuovo vita vecchia vita vecchia o sta bene che a tutti i picciotti fai una cosa per inquadrare cosa di bello inquadra le montagne piemontesi che forse è la miglior cosa almeno questo tramonto non è come questa serie a